come posso perseguire o seguire la mia passione in modo efficace questa è la carta della settimana ovvero il cavaliere di bastoni con questo arcano dobbiamo lavorare su due aspetti che sembrano essere distanti però in realtà corrono paralleli ovvero l'alimentare il fuoco della nostra passione quindi tutto ciò che ci appassiona tutto ciò che in qualche modo ci dà quel brio energetico lanciandoci in avanti come una fionda parallelamente però cercare di capire come canalizzare anche tutto ciò perché a volte l'energia esplosiva quando non è ben canalizzata può essere anche distruttiva e allora queste due energie quindi alimentare il fuoco della passione e riuscire a canalizzare questo fuoco della passione devono accompagnarci per i prossimi giorni quando io chiedo come posso seguire la mia passione in modo efficace intendo proprio questo tu puoi porre questa domanda sostituendo al termine passione quello che già sai essere la tua passione in modo efficace che cosa significa canalizzando bene il tutto ma anche evitando delle problematiche date dalla perdita di energia perché a volte quando l'energia in gioco è veramente tanta poi la disperdiamo magari iniziamo a fare tante cose che non servono realmente e allora cercare di capire qual è la strada in grado di portarci ad un risultato con il minor spreco energetico possibile e questo è quello insomma che mi auguro possa accadere a tutti appeso stella mondo è un tiraggio abbastanza interessante cercherò di rimanere sul semplice in modo che tutti lo possano capire lo possano capire se dovessimo vedere l'appeso beh sicuramente l'appeso è una carta che suggerisce nell'aspetto negativo ovviamente nella tombra il fatto di sentirci bloccati o intrappolati nella nostra situazione e questo interessante perché è un po tutto il contrario riguardo alla carta della settimana che invece mi parlava di un'esplosione energetica anche nell'appeso si vede l'energia ma l'energia nell'appeso è presentata dove nei tronchi che sono comunque secchi e ricisi quindi già diverso rispetto alla frequenza che ha motivato questa domanda però potremmo anche vederci un altro aspetto perché se questo non va a collimare perfettamente con la carta della settimana un altro aspetto interessante dell'appeso è quell'invito silente a guardare le cose da prospettive diverse allora potremmo essere chiamati anche a fare dei sacrifici magari o a rinunciare a qualcosa magari ma per perseguire la nostra passione nel modo più efficace in assoluto è interessante poi il passaggio dall'appeso alla stella perché se ci fai caso anche nella stella compaiono due tronchi due alberi posti leggermente sullo sfondo ma a differenza dell'appeso sono fioriti allora abbiamo proprio questo tipo di discorso cioè se adottiamo l'energia suggerita dall'appeso allora effettivamente la nostra passione può iniziare a fiorire pian pianino possiamo iniziare a trovarci all'interno di un luogo di una situazione di una dinamica molto più positiva infatti l'arcano 17 è un segno non solo di speranza ma anche di fertilità ci incoraggia a credere nella nostra visione a credere di essere sotto una buona stella a credere in quello in cui stiamo investendo quindi dando la nostra energia ed è anche interessante perché la stella alimenta comunque l'appeso e quindi in quell'appeso possiamo vederci proprio quello che stavamo dicendo prima ovvero a volte anche sacrificare qualcosa rinunciare a qualcosa per inquadrare la prospettiva da in molteplici modi da molteplici prospettive infine abbiamo il mondo anche il mondo no che per molti può essere la carta più bella di darocchi inserita in questo contesto particolare invece è proprio splendida perché perché due tronchi secchi dell'appeso che sono diventati due alberi nella stella diventano due belle fronde che formano una mandorla attorno alla donna del mondo la donna del mondo che può essere la stessa della stella con l'unica differenza che nella stella la donna era in ginocchio invece nel mondo si è completamente rialzata e allora l'arcano 21 ti suggerisce che se segui la tua passione con impegno con dedizione ma anche con delle rinunce raggiungerai quella che potremmo definire una realizzazione soddisfacente questo senso di realizzazione personale che ci fa sentire che quel duro lavoro posto all'inizio quindi nell'arcano 12 l'appeso ne valsa la pena perché ha generato dell'armonia dell'armonia con ciò che ci circonda con nell'armonia con noi stessi e nel nostro progetto e da questo punto di vista cioè il fatto di ritrovarci in una condizione diametralmente diversa da quella che era all'inizio quindi quel senso di rinuncia per poi ovviamente finire al mondo è data anche dal fatto che appeso in mondo sono due carte completamente diverse sono l'una all'opposto dell'altra appeso uomo mondo donna appeso capovolto mondo al dritto appeso da solo mondo in compagnia appeso dentro una sorta di rettangolo mondo all'interno di una sorta di cerchio l'appeso non ti fa vedere le mani il mondo ti fa vedere le mani quindi c'è proprio un cambio totale di prospettiva ma anche di cose che ci capitano se solo avessimo l'accortezza di seguire questo piccolo consiglio mandato dal tarocco ecco qua una lettura snella in realtà piena dei riferimenti che poi possono essere anche sviluppati in base alla tua conoscenza del tarocco e che io invito sempre 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 a fare come vedi ho sono partito dal cavaliere di bastoni quindi ho dato molta energia al bastone e ho preso i bastoni come elemento preponderante all'interno del tiraggio figlio mio personalizza pure tu questo consulto personalizza pure tu questo tiraggio personalizza pure tu queste frequenze con un autoconsulto che ti puoi fare da solo e quindi andrai a meditare in separata sede con il tuo mazzo di carte con i tuoi significati quando dico questo mi è arrivata anche l'email ma come faccio a sapere che i significati sono giusti che il mazzo di carte è giusto vabbè questo ha per uno spaccato forse più da corso che da video di tiraggio della settimana diciamo che il mio consiglio è quello di prima di un consulto stabilire quale mazzo quali significati utilizzare e non cambiarli durante il la meditazione la decodifica che stai mandando avanti ok è una sorta di intenzione di ancoraggio intuitivo a quello che stai facendo che deve motivare poi il tuo lavoro buona settimana ciao ciao